Ma se noi stiamo uscendo dalla fase più critica con una situazione in cui c'erano forti difficoltà, ci sono forti restrizioni dell'accesso a tempo, questo lato positivo, se volete, delle recessioni non riesce a materializzarsi. Purtroppo non ci sono stati cambiamenti nelle regole che dovrebbero controllare il funzionamento dei mercati finanziari, quindi molto è rimasto come prima. Il fattore di criticità che hanno portato al collasso del sistema finanziario mondiale e che ci hanno portato così vicino a quella crisi del 29, sono rimasti tutti... Diciamo che è stata buona la risposta delle banche centrali, bene anche dal punto di vista dei proverbi che hanno varato politiche riscate espansive, ma non c'è stata ancora quella visione delle regole, della supervisione del sistema bancario che senza la quale il rischio che si torna in una situazione come quella che si è prodotta negli ultimi due anni è tuttora presente. E quindi c'è sicuramente il rischio di nuove crisi di fiducia e di credito. Sì qui l'unica cosa che è avvenuta è stato sostituire il debito delle banche con debito pubblico, ma anche qui chiaramente la debita, il problema si forrà perché anche il debito pubblico rischia di diventare insostenibile. Ecco, vi dicevo prima che la Cina ha un ruolo fondamentale nel portato fuori dalla recessione, vedete che questi sono dei grandi che ci fanno vedere l'andamento della Cina, questa è la dinamica di lungo periodo che prevaleva prima della crisi, la linea blu, la linea rossa che fa vedere l'andamento effettivo della produzione industriale in Cina, vedete che prima della crisi era sopra addirittura l'andamento che si stava ancora a 200 metri della dinamica di lungo periodo del trend, quando è iniziata la crisi siamo scesi sotto al trend chiaramente, ma comunque la produzione industriale in Cina non ha mai subito un forte collasse, addirittura è ripresa e sta ripartendo in modo molto forte e rinvenuto. E' proprio la Cina che è stata la prima nel mondo a dare dei segnali di ripresa, quindi incoraggiamente vede pronto. Ma parliamo del nostro paese, non possiamo, non potevo non parlare anche dell'economia globale, perché questa è la crisi globale, ma ci sono dei fattori specifici al nostro paese che vanno chiaramente affrontati. Come vi dicevo, l'Italia è entrata in questa recessione, in questa situazione, in cui noi venivamo da un periodo di distanzione economica, e quindi questo ci fa sentire la crisi in modo più pesante di altri paesi, vedete che questo è l'andamento e la crescita del prodotto interno, del prodotto pro capita, diciamo del reddito pro capita in Italia dal 1951 al 2008. Quando si parla del declino economico del mondo europeo, se si parla, facendo riferimento a grafici di questo tipo. Ci sono chiaramente fluttuazioni nel corso del tempo, perché le economie hanno queste fluttuazioni, ma se vedete la linea blu, si fa vedere l'andamento più nel lungo periodo. E dimostra un declino che sembra quasi inarrestabile, insomma. Noi eravamo abituati a crescere a tassi di reddito pro capita, quindi il benessere, la ricchetta delle famiglie, e cresceva a tassi del 6% all'anno. Questa crescita si è ridotta progressivamente nel corso del tempo, dagli anni 50 siamo passati al 4% degli anni 60, poi siamo scesi al 3% degli anni 80, al 1,5% degli anni 90, e poi praticamente allo 0%, perché questo è stato lo 0, qualcosa del nuovo millennio. Quindi questa è la situazione in cui noi siamo entrati nella recensione. Voi capite che quando un paese cresce così poco, una recensione come quella attuale, che probabilmente nell'anno in corso ci porterà a una caduta del prodotto attorno al 5-6%, vuol dire tornare indietro di molti anni. Alla fine del 2009, naturalmente ritorneremo ai livelli di reddito pro capita, quindi il benessere delle famiglie, se volete, precedenti all'inizio del nuovo millennio. Ritorneremo più o meno al livello del 1998-1999 per quanto riguarda i redditi pro capita delle famiglie. Invece subire una perdita del prodotto del 6% in un paese dinamico come la Spagna, che è cresciuta per molti anni in tassi del 3-4%, è una cosa ben diversa, vuol dire perdere un paio d'anni per quanto riguarda, non vuol dire tornare indietro addirittura in un decennio. Quindi questa è la cosa grave della nostra crisi. Noi venivamo da anni di estagnazione. Tuttavia potevamo essere meno vulnerabili di altri della crisi, non potevamo essere vulnerabili per quelle cose che vi dicevo prima, noi non abbiamo molto grandi danni che sono in qualche modo state investite e sono fallite durante la crisi. Non avevamo una bolla immobiliare che altrove ha provocato delle crisi, non è veramente molto pesanti, insomma, al caso della Spagna, dell'Irlanda, di questo punto è molto importante. Poi c'è un altro fattore che è importante, noi avevamo un debito privato, avevamo un debito pubblico più alto di altri paesi, ma avevamo un debito privato più contenuto, quindi anche questo è un fattore che rende in qualche modo il nostro paese meno vulnerabile di altri ad una crisi dei mercati finanziari. E chiaramente quando ci sono crisi di questo tipo e un paese ha un forte debito complessivo tra la parte pubblica e la parte privata, la parte blu di questi grafici, questi histogrammi del debito privato, quella rossa invece del debito pubblico, se li mettiamo insieme, il debito complessivo del nostro paese tra molti aspetti è in fra l'ora come gli altri paesi europei. Perché è vero che da questo programma critico del debito pubblico, tanto in questa crisi era meglio avere più debito pubblico e meno debito privato, quello che successe in altri paesi che hanno trasformato debito privato in debito pubblico, intervendendo per la ricapitalizzazione del basso. Grazie. Bye.